Chiara Ferragni torna sui social con una foto che la ritrae sorridente e un messaggio scritto. Dopo giorni di silenzio a seguito della vicenda del Pandoro Balocco. Mi siete mancati, e, vorrei ringraziare tutte quelle persone che mi sono state vicine. E hanno avuto una buona parola per confortarmi, scrive l'influencer. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct. Che hanno chiesto come stessi. Che mi hanno spronata a tornare sui social aggiunge grazie a chi c'è, a chi ascolta. A chi non vuole affossare ma aiutare.